Forza! Forza! Devo vincere un sacco di soldi! Dai! Dai che ce la faccio! Dai che ce la faccio! Ferre? Che c'è? Cosa stai facendo? Sto giocando! Ferre? Alle slot machine! Non si gioca! Giochi in azzardo! Ti acceco! Ferre, allora, ascoltami un attimino! Non si fanno queste cose! Perché? Perché rischi di buttare tutti i soldi che hai guadagnato, Ferre! Ma sono tuoi, quindi non me ne frega nulla! Come sempre io prendo i tuoi soldi per queste cose! È ancora più sbagliato, Ferre! Perché li ho guadagnati con tanto lavoro e non li puoi buttare così nel gioco azzardo! Non è vero, sei solo un fatturale e quindi continuo a spenderli! Perché tanto non vincerai nulla, Ferre! E ragazzi, come va? Io sono Ferre Niki! E io sono Stef e questo ci chiamo Gmod! E siamo tornati qua con un nuovo episodio del nascondino! Questa volta, come avrete già visto dal pre-intro, siamo in un bellissimo casino! È bello, vero, è bello! Esattamente! Allora, la mappa è gigantesca ed è davvero bellissima! Quindi preparatevi a uno di quei nascondini davvero, davvero epici! Per di più, su Gmod, da soli, non lo facciamo da un po', quindi sono anche felicissimo di tornare a farlo! E direi che ci possiamo iniziare a divertire! Buongiorno, signorina! Buongiorno! Vorrebbe giocare un pochettino? Certo! Aspetti che mi siedo! Sì, sì, sieda, per favore! Sono un po' complicata! Ok! Allora... Sto in terra! Oh, perfetto, perfetto! Vorrei chiederle una cosa! Mi dica! Quanto vuole giocare? Quanto vuole mettere in palio? Eh, allora, quanto ho rubato a Steph? Centomila dollari! Ok, centomila dollari! Ne è sicura, signorina? No, perché sa, molta gente viene qua, gioca un sacco di soldi, poi se ne pente, mi prega di... No, non mi pente, non mi pente, sono a posto, sono a posto! Ok, allora, a cosa preferisci giocare? A poker? Oppure vuole giocare a qualcosa di più semplice? Vuole giocare... A briscola? Non lo so! Non so giocare neanche un gioco di carte! Ok, e Pinetta? Pinella, almeno! Pinella! È sbaglia! E ogni volta rovina le scene! È sbaglia! Scusi, signorina, qua si chiama Pinetta! No, non si chiama! Versione speciale di Pinella, dove facciamo giocare le signore che rubano i soldi senza permesso, agli staff! Ok? Prima di tutto però deve andare a prendere le fisce, signorina! Vede quel bancone lì in fondo, l'accompagno, venga con me, stia attenta a non toccarmi perché in questo periodo sono un po' ammalato! Sì, 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 sì! Vede, qui c'è questo bancone e deve aspettare il mio collega che li porta le chips! Quindi si fermi lì un attimo e il mio collega arriva subito, ok? Sì, però non mi guardi, per favore! Sta scappando, vero? No, no! Mi sta rubando i soldi! Allora, lei guardi lì, ok? Allora, se lei mi ruba i soldi io l'ammazzo perché ok che sono i soldi di staff, ma qui non è che me li voglio far rubare! Mi scusi, signora! Mi scusi! Mi è stato detto che lei sta cercando di utilizzare i soldi di staff! Come si vuole giustificare? Sono miei! No, no, non sono suoi! No, sono miei! No, no, sono di staff! Cosa sta dicendo? Che io non posso avere 100.000 dollari che non ho la faccia di una persona che può guadagnare! No, signorina! Dico soltanto che le ha messo in pubblico di aver rubato questi 100.000 dollari a staff! No, ha capito male! No, mi spiace! Ha capito male, sì! Allora, vuole venire con me? Allora, devo prendere con la forza! Allora, ha capito, ma... Dov'è un'arma? C'è un'arma in questa macchina! Bene! Vieni qua immediatamente! Dove sei? Sono andato in Giappone! Chissà dove sarà mai! Ovviamente non sei in Giappone, ma sei qui da qualche parte nel casino! Dici, Fere? Sì, sì, assolutamente sì! Allora, aspettate un attimo! Stai combinando? Eh, niente, devo fare una cosa! Mi sono messo in first person per far vedere ai consolini meglio la zona! Attenta a non guardare il mio schermo perché capisci subito dove sono! No, no, non l'ho visto! Stavo spostando il cellulare che ce l'ho sul mouse! Ok, ok! Allora, secondo me è un buon nascondiglio! Però non lo so! Mancano già 2 minuti e 45 secondi e ancora nulla! No, mamma mia! E per ora proprio neanche vicino, neanche ho notato un tuo puntino, un tuo capello e niente! Sei sempre la tua skin o hai cambiato? No, no, sono sempre la mia skin! Per ora ancora non ti uso il mustaccio che sennò qua puoi avere anche 40 minuti! Esatto, e ti metti nei posti più strani con le skin più strane! Tranquilla, tranquilla! Sono ancora la mia skin, solo per adesso! Poi nei prossimi round se ne riparlerà un po'! Un minuto e quindi indizio grosso! Mi sei passata di fronte! Oddio! Quanto tempo fa? Eh, non troppo, non troppo, Fere! Faccio la strada al contrario! Ti ho dato un indizio, secondo me, gigantesco e mi devi per forza trovare! Allora, io fino a poco tempo fa ero dentro un ristorante, quindi magari... Ok, ok! Hai preparato qualcosa di buono mentre eri in ristorante, Fere? No, ovviamente! Io mangio pasta, mi cucino! Peccato, peccato! Poteva essere una buona idea preparare qualcosa! Stai facendo l'ombra? Ciao, Fere! Cioè, io ho anche guardato questi tavoli, però tu arrivi! Minuto, Fere! Allora, li guardi di così e c'è il tetto, questo bianco, che ti copre quella visuale! Cioè, vabbè, vabbè! Lo so, Fere! Però aprezzo perché questo era davvero un bel nascondiglio! Mi è piaciuto, Stef! Grazie, Fere! Sei molto gentile! Fere! Stef! Ora, secondo me, sono un po' più in forma! Ti dico una cosa! Ok, subito! Mi ha fatto un nascondiglio molto cattivo! Ok! Cattivissimo! Perché cattivo, secondo te? Perché mi sono nascosta davvero bene! Però è con mustaccio! No! No, sono visibile! Sono visibile! Allora! Se tu passi qua, mi vedi! So già dove sei! Dove? Allora, no, 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 no! Io vengo, perché sennò poi tu scappi! Quindi adesso io vengo e ti trovo! Ti tocco! E ti butto via da questo mondo! Così impari a mettere mustaccio! Già il secondo round! Non mi sono assicurato di essere visibile! Apprezza! Potevano sparire in qualche buco e tu non mi avresti più visto! Sto già cercando di toccarti, sappilo! Sto già andando in tutti i posti dove potresti essere! Sei cattivo! Sei preoccupata, Fere? Questa è bello, no! Da 1 a 10 quanto sei preoccupata? 4! 4! Ah, solo? Sono sicura del mio nascondiglio, sono davvero sicura! Ok, ok, ok! No, non ce la fai! Fere, mi vedi? Io non ti vedo, non ti vedo! No? No! Sicura? Sì! Comunque hai capito la tipologia! Ok, allora sei qua! Ciao! Stavo facendo il fiore, lasciami fare il fiore! Vai via! Mi hai capo e racchiappato subito! Quanto sei banale col mustaccio! Non era bellissimo! Lo devi usare con più intelligenza! Stavo facendo la piattina! Girati, non guardarmi che ti insegno come si usa mustaccio! Mi hai provocato! Però non sparire! Sei benissimo che il mio personaggio mi hai provocato! Adesso ti insegno io le buone maniere! Non usarlo per sparire! Ok! Te lo dico! Ok, niente bug! Niente bug! Niente bug! Mi sembra una cosa ecco! Dale, io mi vedevo! Mi vedevo! Oh sì sì sì! Hai ragione, hai ragione! Hai ragione! Vai 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 Fere! Aspetta, mi cambio skin! Che domande hai fatto! Con mustaccio te lo faccio in 5 secondi Fere! Ok! Allora, se il tuo era cattivo, il mio è due volte più cattivo! Ciao Fere! Ciao Fere! Ma scusa, secondo te? Dopo che io controllo tutte le piantine... Sì, perché sei una persona banale! Ok, va bene, va bene! Vabbè, fatti tutte le piantine della mappa! No, però aspetta! Quando le finisci mi avvisi e ti do un indizio! Allora, se mi hai visto... Ok! Qui c'è la strada delle telecamere, quindi o mi stai spiando dalle telecamere, no? Ok, no! Perché mi è venuto quel dubbio! Ok, no, era un ottimo dubbio Fere! Eh, certo, certo! Hai fatto bene a controllare, però non ero lì! Certo, certo, certo! Certo, certo, certo! Si può salire nella fontana? Non è l'acqua! Sì, si può salire! Ok! Fammi sapere! No, non sei qui in mezzo a fare la fontanella, no? Mi spiace! Uffa! Dai, però se mi hai visto qua sei qui in zona, brutto disgraziato! E so che te ne stai andando in un'altra zona, infatti! Ok, e sei tornata qua! Ti piace il segno del dollaro, Fere? Tantissimo! Eh, meno male, meno male! Ma sei qui per forza! Te lo metto in camera, se vuoi! Sei qui in zona per forza! Dai, dove sei? Nella mia visuale ho queste scale mobili che vanno tipo a un FPS tutto il tempo e mi danno fastidio! Ok! Ok, quindi, vedi, se le guardi, vedi che vanno a scatti tutto il tempo? Ah, sì, non sembra, però vanno a scatti! E quindi mi danno molto fastidio, quindi l'unico indizio che ti do è questo! Allora vedi nella fontana, secondo me, nascosto da qualche parte! Ok, ok! Non so farti vedere! Ci sta, ci sta, ci sta! Però no, perché anche se ti abbassi mi sembra molto bassa l'acqua, quindi non puoi vedere troppo! Nel caso diventa mustaccio e controlla, che così perdiamo troppo di tempo! Basta, Fere, mi sto annoiando! Vieni qua, vieni dove c'è la fontana! Fere, nella fontana! Pronta? Ciao, Fere! Ma dai, io sono passata sopra tutti questi! Ciao, Fere! Ma poi come hai fatto? Io più di questo non posso saltare! Ecco, ora sì! Ho dovuto scalare! Ti acchiappo! Io l'avevo anche detto, però hai fatto di tutto per farmi credere che non fossi lì dentro! Esatto! Sei stata trollata, Fere! Ho detto 20 volte perché avevo ragione! Non è giusto, sei cattivissimo! Sei crudele! Sei tu che hai iniziato a usare mustaccio! Io non l'avrei utilizzato per almeno qualche altro round! Mi hai provocato e sei stata pugnalata alle spalle! Fere! Mi sono messa a lavorare! Mi stai pure trollando! Mi piace questo casino! Signore! Signore, mi scusi! Vorrebbe una bibita! Un caffè! Vorrei una persona con cui fare dei bei video! Quello sarebbe gradito! Mi sarebbe messo a tema! Sì! Grazie! Quella vecchia furfante ha rinubato i sogli a Stef! Io lo sapevo... Furfante a chi? Che dovevo arrestarla per sempre! E invece non l'ho fatto! Me ne sono già pentito! Allora! Che c'è Stef? Che c'è? Perché non parli? Fere! Non sono io! Allora! Consolini! Secondo me che parte di fai un nascondiglio decente non ha capito! No! Perché io... E c'è caldo! Uno squalo mi voleva fare un bagno! Ma scusa! Ma almeno potevi andare nella fontana che ce l'ha davvero l'acqua invece che in una vaschetta minuscola! L'avevi già fatto tu! Non è giusto! Fere! Dove sei finita? Sono nascosta di nuovo! Allora! Fere! Sto piangendo in questo momento perché hai rovinato il mio... Ti odio! Ma dico io! Ti ho lasciato anche andare! Quanto sei banale! Allora! Adesso io mi nascondo seriamente perché... Sei un proglione! Non se ne può più di questa signorina! Che trolla sempre! Ma era bellissimo quello! E poi perché sei finito proprio lì? Cioè c'era tutto il posto di esplorare prima e finisci proprio come prima cosa nella mia stanza! Vada pure! Vada pure! Vada pure! Tranquilla! Tranquilla! Mi sono nascosto benissimo! Allora! Mi metto in prima persona così i consolini possono vedere quando passi vicino perché capiterà un sacco di volte e non mi vedrai! Quindi mi godrò la scena! Ok! E adesso divertiti a trovarmi! Dimmi dov'è Steph! Dittemi dov'è Steph! Perché tutte le camere comunque fanno schifo! Sì sono inutili! Sono decisamente inutili! Non sono adatti al nostro nascondino! Non sono a prova di nascondino Fere! Non servono a niente! Neanche per sbaglio! Mi sembra di aver visto qualcosa! E infatti! Ciao Fere! Stavo pulendo! Ah hai preso questi e hai pulito! Sì esatto Fere! Allora posso chiederle una cosa? Mi dica! Non deve dare qualche lezione magari a Harry Potter proprio adesso ti sei dimenticata di avere questa lezione no? No ho finito! Beh siamo in estate la scuola è chiusa e sono in vacanza estiva! Secondo me deve andare a dare una lezione di magia! Sono in vacanza estiva! Che poi le ho messo di proposito perché ci sono i vent'anni di anniversario di Harry Potter Fere? Sì! O non lo sapevi neanche? No lo sapevo! Ok! Allora! Però è vero è vero! Allora! Non lo so se vuole le faccio vedere una magia! Quale? Le interessa! Magari questa magia non la conosce! Magari sì! E poi le insegno ai miei studenti! Certo! Ok praticamente! Vedi che lì c'è il banco Matt! Ok! Sì! Se lei va davanti e dice questa parola ovvero a sdrubale inizieranno ad arrivarle un sacco di soldi! Non è vero! Quindi si fida a un banco Matt! Io conosco la vera magia per avere i soldi e non è questa! Ha un banco Matt dietro di lei! Bisogna dire ruba tutti i soldi a Steph e ti arrivano automaticamente nel conto corretto! Vada al banco Matt e provi questa magia! No! No mi stai inbrogliando! Perché non si fida? È lì il banco Matt! Allora vado così! A noi anche qui! È là! Eccolo qua! Provi quindi a sdrubale mi raccomando! A sdrubale! Ok! Tre volte! A sdrubale! A sdrubale! Aiuto! Quanti accidenti corri che non riesco a mai fare! Ma è che ci piace! Dicci un like! Nesta è la prima volta che ho avuto il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi! Ciao! Alla prossima! Ciao ciao! Alla prossima!